Io odio questo sommergibile panasiatico, fatta questa doverosissima premessa andiamo a vedere quest'oggi l'Oxin Zong Gu 14 che altro non è che appunto un sommergibile disponibile a livello 6 ed è premium si può acquistare volendo o per meglio dire trovare all'interno della festa di metà autunno i pacchetti costano 500 dobloni, acquistarli tutti quanti avrebbe un costo di 18.500 dobloni si avrebbe la matematica certezza di trovare questo sommergibile vi dico già che non vale il vostro tempo, non vale il vostro danaro, non vale secondo me un po' di cose d'accordo, però ve lo dico giusto perché è doveroso dirlo come sempre ciò nonostante mi sono sacrificato, ho giocato ben 40 partite con questo sommergibile avendo anche il 65% di winrate, ok, però devo dire che il mio giudizio è tutto sommato negativo o per meglio dire è un qualcosa che io non voglio continuare a testare ma cosa ha questo sommergibile che tanto non va o tanto potrebbe andare? allora diciamo subito che abbiamo una resistenza di 11.500 punti abbiamo un cannone che spara sap, un cannone da 100 fino a 6 km, va benissimo sonar, ecco le sue qualità siluri, due tipologie, ovviamente il siluro di profondità che non potrà essere guidato sui nemici ha un danno di 14.600 mentre l'altro che sono siluri acustici ha 4.600 sono più rapidi però abbiamo solo 4 siluri sulla prua batteria d'emergenza, sorveglianza sottomarina e idrofono capacità di immersione a una lenta capacità di recupero della batteria stessa manovrabilità accettabile, manovrabilità sottomarina accettabile miometizzazione e qui edizione dolori viene spottato a 6.4 km praticamente qualsivoglia unità sulla superficie vi potrà vedere prima e poi insomma succederà quello che succederà capitano speciale obbligatorio fino a un certo punto se ce l'avete ce l'ho buttata in misca perché della serie, perché no mettete tutte le cose che ho messo io se volete copiarmi sonar migliorato, liquidatore e ancora addestramento di equipaggio per i siluri bellissima questa skill sovrintendente, specialista di consumabili viene chiamato per i sommergibili, d'accordo guardingo, semplicemente una delle skill più OP che ci sia all'interno del gioco fantastica sovrintendente qui viene chiamato appunto per ottenere il consumabile e ancora abbiamo scarica di adrenalina e in ultima analisi il maestro di puntamento dei siluri che praticamente ci va a dare il 15% in più con un doppio ping per la guida acustica bonus tutti quanti in blu e poi ecco come appare il nostro insuperabile xin zong zong gu 14 che poi a una certa mi sta diventando quasi simpatico andiamo a vedere il gameplay va? andiamo a giocare una partita con il nostro sommergibile siamo in una mappa allo stretto modelli da supremazia una portaerei 5 corrazzare 3 incrociatori un cacciatore periniere e 2 sommergibili allora vi dico fin da subito che questo sommergibile ha una problematica molto grande ovvero la rilevabilità piuttosto elevata quindi nell'80% dei casi verrete spottati per prima e giocate a un livello alto contro navi di livello 8 e giocate nel vostro livello verrete spottati prima da sommergibili avversari e cacciatore periniere io parlo a quota di superficie 6.4 come risolvere questa problematica? o i vostri aliati vanno a spottare per voi eh ma tu puoi andare sott'acqua sì però considerate che la batteria non è infinita e in più la batteria servirebbe per un posizionamento quantomeno corretto per utilizzare i nostri siluri di profondità perché se sperate di fare danno con i siluri a guida acustica buonanotte un'altra cosa che potete fare è appena vedete l'incro... ecco appunto lo stavo per dire è di andare in maniera molto preventiva sott'acqua perché altrimenti noi ci prendiamo i primi danni così a gratis letteralmente sta sparando anche la muzzo sono sottovalutato fortunatamente non vanno i colpi ok ping ping buono così sommergibili resta là vabbè ovviamente la squadra nostra anche deve venire... uh bello questo doppio ping andiamo giù a questi livelli ragazzi può succedere di tutto perché ovviamente i giocatori hanno poca esperienza però veramente ho fatto tantissime partite con questo sommergibile cercando di portarvi l'analisi come sempre più accurata possibile e devo dire che è un sommergibile molto complicato per la problematica che vi ho detto all'inizio la rilevabilità e lascia poche possibilità di errori veramente pochissime possibilità di errori qui i sluri purtroppo non fanno il tempo a virare però vabbè sti gran cavo lui ha la ricerca edrofonica attiva che altro perché non viene distrutto dai nostri grazie molto gentile la c'è la bayern wow una batteria d'emergenza me la voglio giocare adesso il sommergibile sta praticamente lì saliamo bayern ho preso no non sono agganciato quindi non sono per me sono dei siluri ciao vogliamo attaccare a vicenda in questo modo quantomeno discutibile considerando che abbiamo la vicinanza non faremo neanche il massimo del danno però nonostante il danno del siluro sia ridotto possiamo ricevere possiamo fare dei danni da da falla o comunque sia mettere fuori uso il motore quindi sti gran cavoli new york anche mi sembra abbastanza ma ragazzi statevi fermi perché sennò qui diventa impossibile fare il danno se stanno scappando fra 45 secondi ho la mia di sorveglianza sottomarina non è agibile sta qua adesso ci sarà praticamente esatto ma se lì potete venire a rammare la butto lì tanta pazienza conserviamo i nostri siluri perché tra poco attiverò la sorveglianza sottomarina vorrei anche venirti a rammare figurati però non so quanto mi possa convenire fa nulla se ti faccio il danno minimo vai vieni vieni ho la bandierina vai vieni tranquillo fra guarda guarda sarei venuto ben volentieri a fare quello che volevi fare è proprio sincero allora dobbiamo emergere e cercare di fare i danni almeno salire a 50.000 e mezza kill insomma almeno kamikaze kamikaze r best dd vediamo lanciamo tutto quello che abbiamo miseria ha fatto il devastante il kamikaze la kamikaze ha fatto il devastante e vabbè il cazzo del peniere è semplicemente troppo potente proviamo a mettere i nostri siluri di profondità ci dobbiamo avvicinare un bel po' perché altrimenti non riusciremo a fare nulla la portiera sta anche in j3 porca miseria neanche sta in ep3 tipo classica posizione è vastante ci prendi gusto partita incerta sappiamo solo che il kamikaze sta facendo quello che vuole facciamo solo non vanno è stato anche un bel po' di anticipo un bel po' un po' di anticipo che pazienza boys sto perdendo anche addirittura questa cosa non me la ricordavo sincero due colpi poi dobbiamo andare dall'altra parte c'è un'arrizona bella carica in teoria era troppo vicino ah santa pazienza perché la fuso non esce tipo e apre la la oba però vi dovete esbrigare a fare sta cosa perché non ho più batteria questo è levato l'impulso è levato che fastidio abbiamo perso una nave abbiamo perso un'altra nave nel frattempo la kamikaze fa tutto quello che vuole non lo so e santa pazienza non virano in tempo no fra non sono io hai visto male se chiamasse le cariche potrebbe essere un problema noi ringraziamo la gentile bayern per non chiamarle dobbiamo anche dirci che abbiamo abbiamo l'affuso che rimane lì dietro la new mexico che non so perché hanno paura andiamo a prendere bravo poi dobbiamo ricaricare una batteria non so perché lui non chiama le cariche raga mi rendo conto che siamo avvantaggiati da questa cosa però posso farci niente se non chiama le cariche che vede così stiamo barcando un po' d'acqua facciamo una mezza kill ma giusto per far vedere capito che è sommergibile ovvio andremo a cannonare grazie grazie fra ci abbiamo messo un po' troppo però fa sta cosa abbiamo messo un po' troppo 11 sitoli per 43.000 danni sembra sembra una barzelletta non abbiamo più batteria d'emergenza non lo so lì si stanno massacrando i due sommergibili solo che il nostro è completamente da solo cos'è lì l'U69 si la Mikazze R oggettivamente è un cacciatore per niente troppo potente proviamo a mettere a segno dei siluri di profondità ma con un minimo movimento l'Arizona li eviterà non lo so ora come ora mi perché c'è anche la Bayern tipo c'era la Bayern ok in quella zona non lo so sono perplesso perché lui si sta anche allontanando quindi diventa complicato diventa fondamentale prendere questo cap 9 minuti ancora di partita non lo so lui vuole il cap comunque potrei anche giocarmela con i siluri capito perché se lui rimane nella zona a destra può anche essere che non c'è la riparazione disponibile e quindi si becca i miei siluri con un doppio ping che non sarebbe male comunque vedo soffrire particolarmente la fusola New Mexico sembrano dei siluri buoni quelli là speriamo ragazzi una falla per aumentare un pochino il nostro punteggio perché attualmente 43.000 danni o bassi ovviamente no ovvio nessuna falla perché altrimenti può troppo bello però per favore dammi una falla grazie molto molto gentile molto come umano lei però l'abbiamo direi abbastanza colpito giù aspetta 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 l'arrizona detona ma io mi prendo una me la prendo tutta praticamente prendo tutta la cosa che ha chiamato questa fa male mi hanno fatto zero kill una kill ragazzi la voglio solo che senza batteria diventa veramente complicato anche a livelli bassi quindi si stanno beccando da un'ora ragazzi rilancio come capita appunto e basta poi mi butto in cap muore l'u69 non credibile muore ora penso si si sembrano abbastanza buoni ralentato ragazzi incredibile mi son mi son fatto vedere le vita dell'ultimo complimenti david veramente complimenti veramente complimenti a vediamo la vecchia maniera sti cavoli l'u69 non lo so non virano solo noi 67000 danni aspetta la sei giocata bene fra oh non ho più batteria devo emergere per forza ma anche lui è messo male e la falla oh fra la falla non arriva la emergi devi emergere per forza sono so che in questa partita sono stato particolarmente fortunato in diverse situazioni peccato che il kamikaze ci ha un po' rubato la scena la miseria quanto ci mettiamo a virare tutti i ragazzi mi rubano la scena incredibile mi rubano tutti la scena non riesco a mostrarvi una kill fra sai che ti vuoi dare il più uno bravo incredibile la ranger sta lì eh vabbè ma viene one shot dalla fuso come minimo però ci prendiamo un altro cap non lo so ragazzi sto sommergibile non lo so ah prendi la one shot up 67000 0 kill 21 siluri nessun siluro da di profondità poteva andare sulla rio del genero invece no bravo la rio già seguire l'azione e poi muore anche lui vabbè due cap presi però sai bilanciamo un po' di non lo so che poi alla fine secondo me anche il non mettersi nei casini con il proprio sommergibile troppo vicino all'antiera nemica alle cariche di profondità quella è anche voglio dire una qualità punteggio squadra 1525 rapporto dettagliato abbiamo fatto veramente poca roba crediti levate le varie spese 700.000 puliti puliti potevo anche mostrarvi una partita del genere con un paglio di kill e un punteggio squadra di 2000 base così proprio regalato però ho detto sai che c'è di buono adesso carico quella la partita che avete visto perché almeno c'è un po' più di movimento e nella totalità dei quasi 20 minuti bene o male qualcosina si è visto l'inseguimento il cap eccetera eccetera anche se veramente questo sommergibile mi ha prosciugato totalmente le mie energie mentali e non lo voglio più vedere ragazzi vi l'ho terminato io come sempre vi ringrazio per anche i commenti e le visualizzazioni noi come sempre ci vediamo con un prossimo gameplay che non sarà con il xin zong gu mannaggio ciao un prossimo Sous-titrage ST' 501